Bomba di Akiro Ino, Inazuma Eleven esce a febbraio, durante il Level 5 Vision Boh Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Come un fulminaccio al sereno, Akiro Ino ha pubblicato sul suo account, profilo ufficiale, twitter, quello che è Che a fine febbraio ci sarà Inazuma Eleven Heroes Victory Road Non ha detto annuncio, non ha detto informazioni, non ha detto trailer Ha detto Inazuma Eleven Heroes Victory Road verrà rilasciato durante il Level 5 Vision O comunque sia evento live di Level 5, quindi non è neanche Level 5 Vision probabilmente A fine febbraio, quindi aspettate ancora un po' Lo state vedendo ora a schermo, non dice informazioni Non dice informazioni ma il gioco verrà rilasciato Quindi, a meno che non si è perso informazioni per strada Il gioco verrà rilasciato a fine febbraio Cioè ragazzi, quest'anno abbiamo un febbraio videoludico che non si è mai visto nella storia del mondo Giochi su giochi, anime e tutto quanto E a fine febbraio Inazuma Eleven Ma che sta succedendo quest'anno? Quest'anno c'è di tutto Nonostante, nonostante Molto probabilmente sarà rilasciato solo in Giappone Si gioca Hogwarts Legacy Yoke Watch 4 patch italiana Non il gioco ufficiale Non facciamo che non capiamo Il gioco ufficiale mi sa che Se arriva è prossimo anno Se no non arriva più E quindi godiamoci la pace Tanto che ce l'abbiamo Torna l'ultima stagione di Aggretsuko E ora mi ci metti Inazuma Eleven Heroes Victory Road Per ogni modo amici, per questo video è tutto Ci vediamo più tardi con le mie impressioni a caldo Del Direct di Nintendo Bye bye